Siamo massacrando il paese di questi anni. Ed è per cui, con quella sinistra, si ha applicato l'esalto volontario. Prima, perché sono stupo di pensare sempre ai diritti di pochi e non pensare ai diritti di molti. E penso alle donne e agli uomini della polizia potenziaria che vivono più loro da carcerati rispetto ai delinquenti che controllano in galera. Perché sono stupo. Sono stupo di pensare sempre ai diritti di pochi e non pensare ai diritti di molti. E penso... Grazie. 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 Grazie.